ciao a tutti ragazzi qui è giorno e come ogni sabato andiamo a vedere cosa c'è di nuovo da comprare dai venditori di the division partiamo dritti andiamo subito alla base delle operazioni dal venditore delle armi normale c'è un vector ottimo con reattivo crudele e distruttore veramente ottimo sia per i talenti che per il danno base quest'arma può essere tenuta in considerazione sia per una build alpha bridge che da usare anche da solo così com'è senza ricalibrare anche nulla stesso discorso dal venditore armamenti avanzati c'è un auk con spietato reattivo e un terzo da ricalibrare che in questo caso può essere magari un competente non so vedete voi quello dei due che preferite compratene uno addirittura tutte e due sotto poco più sotto sempre dal venditore avanzato c'è un sa 58 con reattivo talentuoso e brutale con talentuoso da ricalibrare ottimo da usare in combinazione con l'alpha bridge se soprattutto non avete un buon famas da abbinare il talento che potete mettere qui al posto di talentuoso può essere non so un crudele o anche uno spietato insomma vedete in base al tipo di fucile che vi manca potete ricalibrare questo talento dal venditore speciale al terminale c'è un acr con meticoloso spietato e brutale anche qui un buon fucile d'assalto da usare in combinazione con l'alpha bridge anche se l'acr può essere usato anche come primaria in pwe visto il suo basso rinculo si controlla abbastanza bene quindi vi da la possibilità di fare molti headshot in pwe visto i mob poco mobili l'unica altra cosa che segnalo qui dal venditore nel terminale è un ottimo zaino fede del cacciatore con armi da fuoco quasi al massimo livello corazza e riserva munizioni se usate una build magari ibrida che prevede i tre pezzi del cacciatore questo zaino è veramente ottimo da comprare cominciamo adesso con i rifugi partiamo dalla speranza autunnale dove troviamo un buon giubbotto con spericolato ha un ottimo roll di vigore e resistenza danni speciali non ha le munizioni e ricalibrerei salute per uccisione in livello corazza in generale un buon pezzo io se non l'avete ancora un giubbotto con spericolato questo occhi potrebbe essere un buon acquisto fuga di dante se non avete comprato quello della settimana scorsa c'è un altro mod con salute torretta al 7,5 per cento ottimo per chi usa il firecrest o la torretta scutafuoco in generale passiamo al campo hudson dove troviamo un buon sasg tattico con spietato medicoloso e brutale ha un ottimo roll da cambiare c'è solo medicoloso che cambierei con reattivo perché è ottimo se usate i fucili a pompa e quest'arma può diventare veramente ottimo sempre qui c'è un mod elettronica con livello corazza diciamo entry level perché ha solo 263 di corazza comunque buono per chi magari è arrivato da poco nel mondo 5 e ha bisogno di un mod elettronica andiamo all'ultima chiamata adesso dove c'è forse il pezzo forte di questa settimana un altro m4 con crudele capace e letale il candidato alla ricalibrazione qui secondo me è capace per avere qualcosa che aumenti il danno base come reattivo spietato ad ogni modo se lo paragoniamo a quello in vendita la settimana scorsa possiamo vedere come il paragone secondo me non regge questo qui ha meno danni a meno danni alla corazza anche come attributo principale e un distruttore al posto di letale talento a mio avviso nettamente migliore in questa patch e in questo meta quindi consiglio quest'arma chi purtroppo non è riuscito a comprare quella della settimana scorsa per gli altri la lascerei lì dove a meno che non vi servano questi talenti per completare la vostra build alphabridge più sotto invece abbiamo un ottimo caricatore che si sposa alla perfezione con il sas che abbiamo visto poco fa ha probabilità ricarica e il 9,5% di cadenza di fuoco quindi se avete fatto 30 comprando il sas 12 di prima fate 31 e comprate anche questo caricatore siamo al firewall con un altro mod entry level questa volta su vigore però con 256 di corazza entry level di nuovo perché il livello corazza anche qui è bassino e può andar bene per chi ripeto è appena entrato nel mondo 5 e ha bisogno di mod corazza passiamo ora ai posti di blocco in zona nera 42esima est cioè un buon AK-47 con spiedato reattivo e predatore ottima arma da usare così com'è in PvE se volete usarla in PvP vi consiglio di togliere il predatore e metterci non so un brutale o qualsiasi altro talento che vi manca questa arma secondo me per come è fatta il danno base che ha la consiglio per una build predatore che qualcuno di voi magari sta usando perché il danno così alto aumenterà di molto il danno del sanguinamento che darete poi ai nemici quindi questo AK-47 può essere buono per tutte le build predatore passiamo al posto di blocco alla 31esima est c'è un ottimo silenziatore tyrant perfetto per i nostri mitra ha 7,5 di probabilità di colpo critico 6% di danni colpo alla testa e il 2% di precisione veramente buono con quell'alta percentuale di probabilità e ottimo come detto per i mitra appunto per la loro capacità intrinseca dei danni critici solo questi due posti di blocco questa settimana vi consiglio perché negli altri non ho visto niente di interessante entriamo invece in zona nera dove in zona 3 dal venditore delle armi c'è un buon ACR potenziato con distruttore concentrato e competente competente nel terzo slot è ottimo per via della sua richiesta di elettronica quindi appena io trovo un'arma con competente nel terzo slot intanto me la tengo per poi vedere se riesco a usarla o con l'alfabridge o anche così com'è quindi per quanto mi riguarda queste da prendere al volo naturalmente guardate bene alle vostre finanze se ve la potete permettere o meno se appunto vi serve un'arma del genere da usare in alfabridge finiamo il giro di mod entry level dal venditore dei mod in zona 4 dove c'è un mod armi da fuoco con livello corazza al 244 anche questo bassino però come detto già per gli altri due va bene per iniziare quindi per chi ha iniziato adesso ed è nel mondo 5 può già trovare mod elettronica, mod vigore e mod armi da fuoco quindi potete completare di già quasi la vostra build naturalmente aspettando di trovare qualche mod con l'armatura maggiore bene per questa settimana è tutto spero come sempre che questo video vi sia stato utile per i vostri acquisti se così è stato lasciatemi un like ed iscrivetevi al canale alla prossima, ciaoone